Il museo del pugilato vedrà anche l'irpigna protagonista, ci sarà infatti oggi ad Assisi l'inaugurazione della prima struttura dedicata ai grandi della box italiana. Tra i protagonisti, Agostino Cardamone, le gesta del pugile di Montoro non sono state dimenticate, così come la conquista delle Olimpiadi da parte di Carmine Tommasone, suo erede. Il pantaloncino indossato da Cardamone in occasione della conquista del titolo europeo contro dell'Aquila, ma anche i guandoni indossati nella sfida mondiale contro Branco, così come tante immagini della gloriosa carriera del boxer di Montoro. Il pugilato irpino del passato e del presente tra i grandi del nostro paese, ci sarà anche l'esposizione della canotta tricolore con cui Carmine Tommasone ha debuttato a Rio, ma l'omaggio all'irpigna non termina qui. Infatti ci sarà anche un racconto fotografico dedicato a Carmela Dognaco. Al taglio del nastro presente anche Agostino Cardamone, una bella soddisfazione per la nostra terra che dimostra ancora una volta di avere tanti campioni in uno sport spesso bistrattato e poco considerato.